E' in corso la quinta commissione ed è incredibile ciò che sta accadendo. Praticamente mezz'ora prima della commissione ci viene recapitato un documento che riguarda la rete covid ospedaliera che dovrà essere realizzata parlando di posti letto per le terapie intensive, subintensive e finanziamenti a nosocomi ospedalieri e ai pronto soccorso. Questo documento consegnato in fretta e in furia praticamente non ha consentito alle opposizioni di approfondirlo e di leggerlo ed è per questo che ho chiesto un primo rinvio della commissione per poi riprendere la commissione che attualmente è ancora in corso quindi andremo avanti perché sicuramente la daremo vinta. Chi ha prima progettato un ospedale covid a Pescara spostando 10 milioni di euro sulla città di Pescara e prevedendo 200 posti letto in più. Tra l'altro poi neanche un vantaggio per lo stesso ospedale di Pescara in quanto anche questa struttura e questi soldi spesi così in questa maniera con questa logica hanno praticamente e sicuramente poco senso alla fine della vicenda. Dopodiché abbiamo chiesto a gran voce di avere contezza e notizie della rete ospedaliera e della programmazione sanitaria. Ormai sono 14 mesi che ci viene raccontato che arriverà la settimana prossima la rete ospedaliera e la programmazione sanitaria della nostra regione e ogni volta dobbiamo assistere a un rinvio. Si va avanti a spot con confusione, hanno paura di portare un documento definitivo perché sanno bene che tante sono le divisioni all'interno della loro maggioranza e tante sono le bugie che hanno raccontato in campagna elettorale e in questi mesi agli abruzzesi.